Ciao a tutti da Mario Carboni, in questa lezione vi presenterò il mio metodo per organetto maggiore e minore quindi questo è un metodo che diciamo l'ho scritto da poco ci sono 31 brani all'interno e è valido solo per organetto maggiore e minore quindi per chi ha gli altri organetti insomma non va bene quindi se ascoltate questi brani e volete eseguirli su altri organetti non è possibile questo quindi sono organetti particolari quindi anche se li avete uguali agli altri però l'importante è che sia un organetto maggiore e minore beh che dire più di questo, di far ascoltare un brano così iniziamo a studiare qualcosa insieme allora il primo brano che vi faccio ascoltare è La Tarantella Napoletana La Tarantella Napoletana e si ripete da capo il finale benissimo quindi questo è il brano insomma sono alcune difficoltà ad esempio nei passaggi tra maggiore e minore che li studieremo insieme quindi li vedremo insieme quindi ci sta un passaggio qua abbastanza impegnativo nella seconda parte che poi lo affronteremo insieme faremo uno studio insieme lo studieremo insieme questo brano quindi faremo questo diciamo l'organetto maggiore e minore non è un organetto che prediligo perché diciamo è sicuramente uno strumento che ha qualcosa in più rispetto all'organetto diciamo maggiore ha la sua scala minore io ho seguito alcuni brani diciamo sull'organetto in maggiore utilizzando la sua relativa in minore qua invece l'organetto minore non utilizza la sua relativa in minore ma praticamente la stessa tonalità solo in minore un esempio se siamo in don maggiore diciamo l'organetto maggiore e minore utilizzerà don minore che ha tre bemolle in chiave però non andiamo sul tecnico sennò diventa un po' complicato bisogna spiegare poi tante tantissime altre cose che dire sicuramente a volte con la melodia riusciamo a fare alcuni brani il problema a volte sono con i bassi questo insomma vale per i musicisti insomma gli accordi ovviamente a volte qualcosa stonerà perché nella melodia magari richiedeva un altro accordo un accordo diverso però noi abbiamo a disposizione solo questi diciamo accordi sul diciamo su questo organetto non è come la fisarmonica che abbiamo a disposizione maggiore minore settima diciamo diminuita e poi abbiamo insomma tutte le tonalità di sopra passiamo allo studio della prima parte però allora siamo in minore andiamo in sesta posizione parliamo sempre del sistema a numeri il sistema a numeri perché questo faccio rivedere ecco qua questo l'organetto questo è un sistema a numeri chiaro? quindi parliamo sempre di numeri allora in sesta posizione andiamo a chiudere col quarto dito in minore tenendo premuto il tasto minore stiamo selezionando il minore queste lezioni le faccio in diretta non taglierò nulla c'è stato prima diciamo un'incertezza nel cambio del registro quindi non è un problema insomma quindi faccio ascoltare il brano poi lo vedremo insieme allora in sesta posizione a chiudere la posizione è questa la sesta a chiudere allora innanzitutto vi faccio capire come funziona il discorso delle posizioni abbiamo la prima posizione seconda posizione terza posizione quarta posizione quinta posizione sesta posizione settima posizione i numeri allora quando troviamo il secondo il numero 2 è il secondo dito 3 terzo dito quarto dito e quinto dito chiaro? quando troviamo ad esempio il 2 col cerchietto molti mi chiedono ma qual è il 2 col cerchietto? allora il 2 cerchiato è il secondo dito che va davanti non è che è questo se mi trovo qua sopra qual è il 2 cerchiato? 2 cerchiato significa il secondo dito va davanti 2 cerchiato significa il secondo dito va davanti sono qui il secondo dito va davanti 2 cerchiato non è che il 2 cerchiato è questo, 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 questo sono tutti quindi in base alla posizione quando troverò il secondo cerchiato vuol dire che il secondo dito non suona questo ma quello davanti avete capito insomma quindi non è come quando si numerano i tasti se si numerano i tasti c'è un problema che non so che diteggiatura utilizzare cioè tutto il repertorio è molto ridotto poi l'altro problema è che ho i tasti numerati ma che dita ci metto sopra? se utilizzo una titeggiatura sbagliata dovrei numerare i tasti e mettere altri numeri per la titeggiatura mi sembra un po' scomodo questo quindi sono ad esempio ora in sesta posizione che non è l'ultima diciamo ricordatevi che l'organetto maggiore o minore ha 7 posizioni non sei come gli altri organetti sono in sesta posizione che è la penultima suono il quarto dito il due cerchiato che vuol dire il secondo dito non suonare questo ma quello che sta davanti qua quindi quarto dito, secondo dito cerchiato e poi il tre quindi ancora questo ancora ancora quattro due cerchiato cerchiato tre ancora quattro due cerchiato tre quindi ancora questo è solo l'introduzione quindi ancora questo ancora questo ancora questo ripeto ancora questo a chiudere quattro due cerchiato tre siamo in sesta posizione quattro due cerchiato tre qua posso anche mettere i bassi sono ora come dicevo nella spiegazione precedente c'è scritto anche nel metodo ci sono questo organetto ad esempio ci sono vari tipi di organetti i bassi li mettono disposti in modo diverso su questo organetto questi sono i bassi minori ad aprire e a chiudere e questi sono i maggiori e poi in utile che vedremo ad aprire ci sta la settima di dominante vabbè non è un problema questo insomma i minori sono questi due quindi il basso fondamentale è sempre questo sia per il maggiore che per il minore quindi per il minore sono questi due tasti per il maggiore questi due e questo è il minore quindi minore maggiore minore così suonate di Q4-2 come vi trovate questo è il minore questo è il maggiore in altri organetti funziona in modo diverso cioè abbiamo ad esempio a chiudere quelli di sopra immaginate che abbiamo quattro tasti quelli di sopra sono quelli in maggiore quelli di sotto in minore però che succede che è un po' complicato non so se però spiego quelli di sotto sono a chiudere in minore però quando apro dovrò utilizzare i passi di sopra cioè fare questo scendere con quattro bassi sotto quelli in minore e quando apro questo se suono in minore sotto quando chiudo sopra quando apro quando chiudo quando apro vedete perché perché per avere la sotto dominante ai passi quindi quando andrò a chiudere uscirà praticamente quando andrò ad aprire con i passi di sotto avremo la sotto dominante questa cosa è una cosa bella diciamo a livello acustico però implica questo fatto che dobbiamo salire e scendere in minore cioè a chiudere chiudere sotto salvo sopra sotto sopra se chiudo e salvo ebbè nella psalmonica c'è sempre un movimento però sull'organetto che non è abituato sicuramente potrebbe essere un problema in effetti molti fanno gli organetti a quattro bassi vabbè vi faccio vedere beh sul metodo l'ho trovato comunque provo a prendere un foglietto vabbè ma perché non tenderlo ecco qua vi faccio vedere così forse è meglio vediamo qua se lo trovo ebbè ecco qua ecco qua tutto tutto in diretta quindi come dicevamo ecco qua questo è il discorso dei quattro bassi questo qua quindi quei due di sotto quando sono in minore i due di sotto a chiudere suonerò questi due di sotto a chiudere quando apro questi due di sopra chiaro? in minore però molti in maggiore rimango sempre su quelli di sopra ovviamente potrò utilizzare anche questi due di sotto a chiudere quando avrò la sotto dominante cioè quando te l'avevo scritto in qualche spartito fa però questo magari più avanti non diciamo cioè non vi dico ora tante cose non vi complico le cose diciamo che in minore mi dovrò muovere con i bassi di sotto a chiudere e quelli di sopra ad aprire chiaro? che ha questo organetto perché chiaramente maggiore e minore con quattro bassi però dipende sempre dal costruttore sia dal costruttore che da come lo richiediamo noi stavo dicendo prima in molti fanno diversamente i due bassi di sopra li fanno praticamente se li fanno fare in maggiore e dicono i due bassi sotto li voglio in minore cioè li voglio in apertura praticamente diciamo come se fossero questi di sopra in apertura voglio suonare sempre questi se in chiusura sempre questi avete capito qual è la differenza quindi questo non alcuni evitano questo movimento però ovviamente toglieranno la sottodominante in questo caso però non andiamo dal discorso tecnico che immagino per chi ce l'ho voluto giusto un po' spiegarvelo velocemente però alcuni decidono ok voglio che in minore devo suonare sempre due bassi di sotto è un po' diciamo ehm insomma non si può avere tutto insomma se non mi muovo non avrò la sottodominante se effetto quel movimento avrò la sottodominante valutate voi va bene vediamo quindi l'inizio ripetiamo il quattro a chiudere due cerchiato poi il tre quindi e metterò i bassi in minore che sono questi due qua a me sono così a voi dipende dall'organetto quindi queste tre note quattro due cerchiato di nuovo quindi i bassi in minore in base all'organetto che avete c'è anche un altro un altro modo ve lo spiego un altro ancora alcuni lo mettono alternati cioè hanno i quattro bassi e fanno così suonano a due a due chiaro? però questo è un altro modo cioè dipende anche dal ehm vabbè ve lo dico perché magari sapete che succede che molte volte diciamo vabbè io c'ho un altro organetto non hai detto questo ecco qua ve lo dico l'ho messo anche nel metodo questo ve lo dico alcuni se li fanno montare alcuni costruttori a due a due cioè quando suonano in maggiore suoneranno questi due qua li chiamano alternati ma alternati è un'altra cosa però vabbè dai diciamo alternati uno sì uno no per capirci quindi uno qua un altro qua in maggiore in minore questi due qua chiaro? oppure come dicevo prima in minore bisognerà salire o scendere insomma capito? quindi anche qua la stessa cosa solo che i due tasti cambiano ci sta un tasto in mezzo questa è l'unica cosa va bene? andiamo avanti non ci prendiamo in chiacchiere però allora che sono importanti pure quindi l'inizio è questo che cominciamo prima quattro due cerchiato tre ancora quattro due cerchiato e tre a chiudere poi salgo di una posizione vado in quinta posizione due cerchiato quattro e faccio questo ancora questo per 5 minuti ancora questo ancora due cerchiato quattro ancora ancora ad aprirlo faccio per 5-10 minuti dopo scendo in sesta posizione e faccio due cerchiato quattro due cerchiato sempre questo due cerchiato quattro due cerchiato 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 sempre in minore due cerchiato quattro due cerchiato ancora due cerchiato quattro due cerchiato Sono in sesta posizione, due cerchiato e due davanti vuol dire due cerchiato, quattro, due cerchiato, gli altri numeri sono le dita. Ora le leggo con le due note di prima, che ero in quinta posizione, il due cerchiato che vuol dire il secondo dito davanti, due cerchiato, quattro, e le note che ho imparato poc'anzia. Quindi queste due note posso farle staccate, quindi come se le tocco le lascio, e poi legate, o legate come vi piace, vi ho fatto sentire tutti i modi, poi valutate voi come vi piace. Quindi il due lo staccate e poi legate, quindi, poi le legate, un modo vale l'altro, come vi piace. Ancora, aggiungiamo tre, il secondo dito sopra, qua, cerchiato, questo, non salgo ridiscendo perché è solo un tasto che devo suonare qua sopra. Tre, non è il due cerchiato qua, praticamente è il due cerchiato della quinta posizione, quindi sarà questo, quinta posizione, due cerchiato, sesta posizione, quindi, poi capirò che sarà, dopo un po' di tempo avrò capito che questo, queste due tasche, lo faccio per 5-10 minuti. Le leggo alle note di prima, che era in quinta posizione, quindi sarà... Quelle tre note nuove... Le leggo alle note di prima, che era in quinta posizione, quindi sarà... Quelle tre note nuove... Quelle tre note nuove... E col tre chiudi, quindi... Di nuovo, pa, pa, sesta posizione, due cerchiato, quattro, due cerchiato, poi il tre... Allargo il secondo dito su qui, lo cerchiato, che era in quinta posizione, il tre in sesta posizione, il tre chiudo, quindi... Alcora... 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 Ancora... ancora, ancora questo, ancora questo, poi leggo tutto dall'inizio, e quindi sarà, di nuovo, ancora, quindi le prime tre note a chiudere, 4, 2 cerchiato, 3, a chiudere, ora apro, in quinta posizione, 2 cerchiato e 4, scendo in sesta posizione, 2 cerchiato, 4, 2 cerchiato, poi quelle due note, 3, 2 cerchiato, 3, e ora col tre chiudo, quindi, quindi rifetto, tutto da capo, ancora, 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 ancora questo, ancora questo, ancora questo, come notati, lo faccio staccate, queste due note, voi potete farle anche legate, come vi piace, qual è, insomma, l'effetto più che vi piace, lo fate, di nuovo, per un giorno può essere anche solo questo l'esercizio, questo rigo ho ripetuto tantissime volte, 4, a chiudere, 2 cerchiato, 3, lo fate per una mezz'oretta, poi ad aprire, in quinta posizione, posizione, 2 cerchiato, 4, poi scendo in una posizione, sesta posizione, 2 cerchiato, 4, 2 cerchiato, 3, 2 cerchiato, in quinta posizione, quindi più sopra, il terzo, il terzo ridiscende, in sesta posizione, il tre chiude, quindi, fatelo per un giorno, questo, quindi ripetiamo tutta questa introduzione, se avete imparato bene, il secondo rigo, uscirà, perché è uguale, cambia solo qua, invece di, praticamente, suonare quelle due note, fa così qua, 3, 2 cerchiato, non ritorna giù, ma rimane il 3 salati, chiaro, un piccolo appunto, ok, questo qua da togliere, ok, quindi, ancora, benissimo, ancora, e così il secondo rigo, uguale, invece di suonare il 3 sotto, sale anche il 3, e chiude con il 2, prima era, ora, sale il 3, e chiude con il 2, ripeto questi due rigi, scusate, poi, chiaro, alla fine possiamo anche mettere dei bassi, questo, o come è scritto, e quindi qua vediamo, come è questa seconda parte, due volte il 4, sempre a chiudere, in minore, poi due volte il 3, poi il 3, due volte il 4, e poi il 3, quindi, quindi, pa 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 pa, di nuovo, ancora questo, ancora questo, ancora questo, ripeto sempre questo, Due volte il quattro Poi il tre Pappa con quattro E poi col tre lungo E sarà Vi faccio per una mezz'oretta questo Sempre questo dovete fare Prolungate l'ultimo tre Ancora questo Ancora questo Ancora questo qua Ancora questo Ancora questo Ancora Lo ripeto tantissime volte Benissimo, mettete in passo e fatelo Bene, l'avete fatto, uscirà così Poi aggiungerò a questo due volte il terzo dito E due volte il quattro aprire Ripeto solo questo Ancora, due volte il tre, chiudere E quattro due volte ad aprire Sempre in sesta posizione Quindi due volte il quattro aprire Quindi ancora questo 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 Fermatevi e fatelo per dieci minuti Una volta che l'avete fatto, uscirà così Aggiungo quattro, cinque, quattro Sempre ad aprire Quattro, cinque, quattro E chiudo col tre Quindi sarà così Qua Sarà due volte il tre a chiudere Poi apro due volte il quattro Poi quattro, cinque, quattro E chiudo col tre Quindi prima Quel blocco di prima Che l'abbiamo imparato benissimo Se avete fatto una mezz'oretta Altrimenti non è utile andare avanti Il blocco di ora Quattro, cinque, quattro Col tre a chiudere Quindi Parapapam Ancora questo Ancora questo Quattro, cinque, quattro Aprile Il tre a chiudere Quindi quattro, cinque, quattro Aprile Tre a chiudere Quindi Ancora Fatelo per un'oretta Questo Quattro, cinque, quattro Il tre a chiudere Vedete in pausa e fatelo Bene, l'avete fatto Lo leghiamo Al frammento di prima Che era Due volte il tre a chiudere Due volte il quattro Aprile è quello di Oganzi che sarà due volte il tre a chiudere e tutto il resto aprire quindi tolgo le ditte ma voi non dovete fare questo giusto per farvi capire quali sono le ideggiature lo faccio per un'oretta e collego tutto poi di nuovo che è il primo pezzo se non vi esce questo non andate avanti il secondo pezzo la prima parte il primo frammento era questo lo avete fatto per qualche ora poi lo faccio tante volte anche fermandovi magari non è un problema l'importante è che focalizzo bene diciamo i tasti A per emergere la ideggiatura poi ancora questo benissimo fatelo per un'oretta poi andate avanti andiamo avanti ora quindi siamo alla fine del terzo rigo ultime tre note 3 e 2 cerchiato 3 poi 2 cerchiato 3 aprire quindi 3 e 2 cerchiato 3 ad aprire cioè scusatemi a chiudere ora ad aprire 2 cerchiato 3 quindi a chiudere a chiudere e poi sono ad aprire ancora 3 e 2 cerchiato 3 a chiudere ad aprire 2 cerchiato 3 quindi sarà mi fermo un po' nella terzina e nelle due note 3 e 2 cerchiato 3 mi fermo 2 cerchiato 3 ad aprire quindi apro 2 cerchiato 3 apro 2 cerchiato 3 quindi cercherò di legare 2 cerchiato 3 potrò pensare Napoli Bari 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 allungando un po' Bari quindi 3 e 2 cerchiato 3 a chiudere 2 cerchiato 3 ad aprire per un giorno può essere anche solo un frammento un esercizio non fatela tutta se vedete che avete confusione dove sono arrivato che devo fare fermatevi perché diventa un casino questa è la parte questa qua Tarantella è napoletana quindi se avete difficoltà e vedete che iniziate a non avere difficoltà a capire quale parte state facendo vuol dire che volete farla tutta di getto quindi non va bene allora quindi siamo questo frammento di ora 3 2 cerchiato 3 apro con il 2 cerchiato 3 alla fine lo ripetete per una mezz'oretta uscirà così Napoli Bari di nuovo quindi 3 2 cerchiato 3 apro con il 2 cerchiato 3 quindi fatelo per una mezz'oretta e poi uscirà così andando avanti la stessa cosa cambia solo le posizioni stessa diteggiatura ascoltate vado avanti cambia solo ora l'inversione del mandice invece di fare 2 cerchiato 3 qui sotto in quinta posizione fa questi due quindi farà a chiudere queste due note eravamo qui quindi quindi ad aprire 3 2 cerchiato 3 salgo in una posizione queste due note 2 cerchiato 3 sono e lo stesso movimento delle dita prima era questo vedete bene quindi ora fa lo stesso movimento la terzina di prima ora invece di di farla qui in sesta posizione la fa una posizione più sopra quindi chiaro? quindi la prima parte che avete imparato bene ora la faccio ad aprire dall'altra parte a chiudere però in una posizione più sopra quindi chiaro? quindi importante capire la prima che è questa la prima terzina 3 2 cerchiato 3 e 2 cerchiato ad aprire focalizzate su queste ripetate ore e ore ma bene cioè deve andare sola sola dovete proprio assimilarla molto bene così ancora quando sarete sicuri è semplicissimo farla andare avanti e sarà così vedete? ora lo faccio la stessa cosa ad aprire ora chiudo ma salgo in una posizione e le leggo queste due frammenti magari così stessa cosa inverto ma salgo la posizione più sopra quindi ora la leggo primo frammento il secondo ad aprire poi a chiudere in quinta posizione però lo ripeto stessa cosa di nuovo la stessa cosa con inversione è uguale solo che ad aprire la posizione più sopra chiudo cerco di legarlo ora anche se mi fermo ora ogni frammento e mi fermo facciamo così la stessa cosa solo con posizioni e inversioni del mandice cioè stesso movimento delle dita stessa posizione ad aprire quinta posizione a chiudere per un giorno può essere questo l'esercizio poi se riuscite a fare questo potete andare avanti e sarà così ora ripeterà di nuovo la stessa cosa quindi ripeterà la stessa cosa di prima in quinta posizione quindi 3-2 cerchiato 3 apro con 2 cerchiato 3 la stessa cosa quindi 3-2 cerchiato 3 rimango fermo 2 cerchiato 3 aprire poi 3-2 cerchiato 3 ad aprire chiaro? ripeterà sempre la stessa cosa poi ovviamente con la partitura davanti sarà molto più semplice quindi ripeto questa seconda frase abbiamo da chiudere 3-2 cerchiato 3 2 cerchiato 3 aprire la sappiamo fare molto bene così poi le stesse diciamo stesso movimento delle dita cambiano però la posizione l'apertura del mantice uscirà una melodia diversa vedete? ad aprire 3-2 cerchiato 3 salgo e faccio con le due note poi le tre note Napoli apro con 2 2 cerchiato 3 nuovo Napoli sempre qui 3-2 cerchiato 3 e sarà così mi fermo salgo e chiudo sto fermo sempre a chiudere fermo apro fermo sempre ad aprire chiaro? di nuovo apperzi questo il primo è chiaro apro ora salgo e chiudo sto fermo qui la terzina 2 cerchiato 3 sempre fermo poi 3 2 cerchiato 3 e sarà così alla fine lo faccio lento di nuovo di nuovo salgo e chiudo ancora questo salgo e chiudo lo fate per 2-3 ore e poi uscirà così chiaro? quindi collegando tutta a questa seconda parte dal fine del secondo rigo ora la parte che ho imparato proprio ora poi è uguale è finita questa prima pagina per capirci tranne le ultime due note quindi sarà così ripeto dal fine del secondo rigo quindi 4-4 3-3 4-4 sempre a chiudere 3 lungo 2 volte il 3 4-4 aprire 4-5 e 4 e 3 a chiudere i frammenti erano questi primo frammento per un'ora secondo frammento 2 volte il 3 a chiudere 2 volte il 4 a aprire poi 4-5-4 con 3 a chiudere era questo il secondo frammento per ripetere ore e ore poi andando avanti questi altri 3-2 cerchiato 3 a chiudere aprire questi 2 cerchiato 3 era questo un'ora o due ore di queste perché poi è la stessa cosa cambia solo l'inversione del magico che è sempre da aprire salgo e chiudo sto fermo apro e finita e sarà così in sesta posizione oscura qua mi è sfuggita qualche terzina potete metterla anche voi tipo qua ma dopo che l'avete fatto dopo che vi uscirà bene bene quindi sarà invece di fare fate ma questo ovviamente più avanti quindi senza fretta va bene diciamo che abbiamo visto in questa lezione l'introduzione i primi due righi e la prima parte va bene quindi nella prossima lezione vedremo la seconda parte vi ricordo che questo fa parte del mio nuovo metodo per organetto maggiore e minore eccolo qui e va bene quindi buon studio e un saluto a tutti se avete qualche difficoltà in descrizione cioè in descrizione nei commenti lasciate qualche commento quando avrò tempo vi risponderò va bene ciao a tutti da Mario Carbone